Quinto K.O. consecutiva e crisi certificata per il Frosinone in questo a vie di stagioni di campionato. Allo stirpe passa anche il Genoa che vince 2-1 grazie alla doppietta del capo cannoniere del campionato Piontek, arrivato già a quota 12 marcature. Paggiale Sportiello voto 6, forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sul primo gol, incolpevoli invece sulla seconda rete subita. Goldanica voto 5, tre interventi scomposti nei primi minuti, prende subito un giallo che lo limita per tutta la partita. Salaman voto 5, errore gravissimo che spiana la strada qua meno in occasione del secondo gol del Genoa. Sfortunato nel finale, il suo colpo di testa avrebbe meritato maggior fortuna. Capuano voto 5, in difficoltà nel primo tempo, ma Piontek è un cliente tostissimo per tutti. Zampano voto 6, è sua la prima palla gol della gara, per il resto spinge bene dalla sua parte, il Frosinone ha sempre campo. Cipsa voto 6 e mezzo, sfiora il gol al termine del primo tempo con un bellissimo tiro dal limite che si stampa sul palo. Ancora sfortunato nella ripresa quando Sandro salva sulla linea dopo un suo colpo di testa. Alfredson voto 5, buona gestione della palla, detta molto bene ai tempi di gioco, cala vistosamente nel finale. Molinaro voto 5, meglio in fase di copertura quando spinge e non dà mai la sensazione di poter far male agli avversari. Ciano voto 6, è suo il primo gol in questa Serie A del Frosinone. Freddo dal dischetto spiazza Radu. Campa il voto 6, ad inizio ripresa ha sui piedi la palla per pareggiare, ma calce in fretta e il palone finisce comodamente tra le braccia di Radu. Periz ha voto 5 e mezzo, ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore che riapre la partita. Moreno Longo voto 5, l'impegno dei suoi ragazzi non manca, ciò che invece sta mancando sono i risultati. Necessario un cambio? Grazie a tutti.